Grazie, oggi è arrivato il primo pacchettino di Shein, avevo fatto un ordine con due costumi necessari che per i capelli una pasmina e un berrettino hanno diviso i pacchi in due e oggi è arrivato il primo ho fatto l'ordine venerdì, sì perché venerdì mi è arrivato subito, o giovedì o venerdì, mi sembra venerdì e subito mi hanno mandato l'email con scritto che il pacco era diviso in quel modo lì, cioè i pacchi la spedizione era divisa in due e oggi che è mercoledì mattina è arrivato il pacco quindi è stato veloce tanto quasi, quasi come Zalando ho arrivato il venerdì, è arrivato mercoledì, Zalando è più veloce però ben lontano dai prime settimane di maggio che doveva arrivare quindi è stato super veloce, non si è fermato la dogana per fortuna e quindi tutto bene, allora il pacco che è arrivato era così, all'interno c'era questo sacchettino dove all'interno c'era il costume allora ho preso un costume, l'ho pardato perché come vedete mi piace l'ho pardato vi faccio vedere prima la mutanda, non è regolabile quindi spero vada bene a vedere così a occhi mi sembra un po' grande però essendo dubble, dubble fase e molto anche non troppo elastica speriamo vada bene allora vi dico che in tutti c'è questo aggeggio qua, lo salva slip lì per la protezione igienica il costume è praticamente, non capisco se è duple fase, qui c'è la cartellina quindi è dentro ma il costume è doppio, cioè vi assicuro ragazzi che ho fatto così bene non ho comprato neanche un costume da tezenis o da calzedonia cioè io l'ho mai visto fatto così bene, doppio, molto molto bello, speriamo che vada bene di sopra faccio un po' fatica a farvelo vedere perché sinceramente non sono riuscita a capire come è fatto cioè vi dovrei postare una foto per capirci, credo, ecco forse ci scappiamo così cioè è fatto a fascia, poi c'è questa fascia che va messa cioè praticamente è fatto a fascia, si lega dietro con i laccetti alla faccia dei laccetti sono grossissimi, vabbè, così sostengono un bel po' dentro c'è l'imbottitura estraibile perché qui vedete c'è il taglietto da cui si può tirare fuori però mi sembra anche valida, mi sembra una bella imbottitura ha fatto bene a farla estraibile, è così più comodo da lavare ma è anche più comodo da cambiarla se uno non piace e poi praticamente è una fascia che si lega dietro però la particolarità è che ha sul davanti, vedete questa fascia che accompagna il seno, quindi lo spinge da una parte e poi va messa, qua ci va il braccio dentro e quindi rimane fatto così ecco per intenderci avrebbe fatto così e ho preso una M sperando che insomma vada bene volevo solo segnalarvi che sul sito sembra rosso, un rosso tendenzialmente al bordeaux invece vi assicuro che è un bellissimo arancione fluo per fortuna che non lo cercavo rosso, cioè andava bene come arrivava e quindi insomma mi piace mi piace molto il fatto anche che anche questa parte qui è doppia, cioè duple fase e poi molto ben fatto devo dire, cioè non sembra un costume costato poco adesso non ricordo qui il prezzo però fate conto che devo avergli dato non lo so 8-10 euro non di più perché fate conto che con 39 euro ho preso un costume intero, un costume due pezzi quindi degli elastici per i capelli, una fascia per i capelli, una pashmina, un berrettino cioè tanto non è costato, quindi ho avuto anche la fortuna che non si è fermato alla dogana e quindi è molto bello quindi ragazzi questo è solamente il video di spacchettamento ci vediamo presto sempre sul canale per il video dove lo proviamo insieme direi di, scusate il rumore ragazzi adesso passo un po' ma c'è Angelica che sta guardando Frozen quindi c'è un po' di rumore di sottofondo lo proviamo insieme, speriamo che vada bene perché l'intimo non si può assolutamente cambiare il costume, questo tipo di moda mare qui non si può assolutamente cambiare e quindi speriamo insomma di averci beccato con la taglia se no lo regalerò a qualcuno insomma anche perché però nella mutanda solo mi lascio un po' perplessa perché vederla così mi sembra grande poi essendo poco elasticizzato però allo stesso tempo essendo doppio magari veste di più buono lo so, 5 veste di meno volevo dire niente ragazzi vi stavo dicendo che appena arriva l'altro pacco facciamo un video spacchettamento anche dell'altro e poi li proviamo insieme oggi sono impossibilitata per fare un video decente prima di tutto perché volevo farlo in un momento dove li provavo tutti insieme e poi anche perché problemi di donna oggi non sono in grado di provarlo come si deve ecco diciamo così comunque vi segnalo che al momento se volete rischiare la fortuna il rapporto qualità prezzo mi sembra veramente veramente ottimo cioè io un bel tessuto così sinceramente non l'ho non l'ho visto neanche in negozi di costume molto molto più cari poi dopo vi farò sapere magari anche lavandolo indossandolo più volte anche come si comporta da bagnato insomma vi darò un po' di informazione niente ragazzi allora mandate se siete nuove qui e vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale lasciate un like attivate la campanella per non perdere i futuri video condividete il video se mi volete aiutare a farvi crescere poi io sera come vi dico sempre ragazze aspetto qua sotto i tanti vostri commentini fatemi sapere se avete comprato anche voi da Shein se vi siete iscritti alla loro newsletter vi conviene ragazze perché mandano sempre tante cose interessanti tante email interessanti su tante offerte oggi per esempio c'era l'offerta della spedizione a un euro e quindi ho approfittato e ho ordinato anche un vestitino dato che qua oggi è molto di questo quest'anno è molto di tendenza l'ho voluto prendere costava veramente pochissimo e poi niente ragazzi aspettiamo aspettiamo questi commenti appunto per sapere se l'avete provato anche voi avete già costato su questo sito come vi siete trovate come vi sembra il rapporto qualità presto insomma tutte le informazioni possibili su questo sito che ci possiamo scambiare per aiutarci fatemi anche sapere ragazzi se avete mai comprato della modabara dei costumi o dei vestiti su Zaful perché ho visto che anche su quello sembra che ci siano delle cosine carine così magari poi stiamo insieme anche la qualità di Zaful io ragazzi vi mando un super bacio e vi aspetto presto 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 ci vediamo con la prova su strada dei costumi un bacio che vediamo con la prova su strada dei costumi